a parlare qualche giorno fa a Napoli con il rocker Sting e il collega giamaicano Shaggy. La questione dell'immigrazione è una questione molto complessa. Le persone scappano dalla povertà estrema, dalla violenza e dal cambiamento climatico. Esattamente come faresti tu, esattamente come farei io. Per cui se c'è una soluzione, questa soluzione deve essere basata su una qualche compassione nei confronti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Al contempo possiamo aiutare la vita nei loro paesi d'origine. Innanzitutto dobbiamo smettere di mandare le armi a regimi. Le armi che sono costruite in Francia, Germania, Russia, America e Gran Bretagna non vengono prodotte in Siria. Le armi vengono prodotte da noi. L'estrema povertà che è spesso provocata anche dall'avidità delle nostre multinazionali. Quindi in parte siamo responsabili del problema, quindi dobbiamo essere parte della soluzione. Non sono un politico, non conosco la soluzione, ma ovviamente c'è sempre un problema quando grosse masse di persone vanno in un altro paese, ma la soluzione deve essere basata sulla compassione. Quando senti parlare di un muro, di costruire un muro tra l'America e il Messico, cosa ti viene in mente? Il muro è una cosa ridicola, è follia. Ci sono delle famiglie, famiglie messicane, che sono parte della struttura americana. L'America, come la conosciamo noi, è costruita ed è stata costruita con tanto aiuto da parte degli immigrati. Io sono un immigrato, vengo dalla Giamaica, mia madre è arrivata in America dalla Giamaica. Se andiamo a guardare la storia, vediamo come è stato costruito il paese. Se si mette una divisione, un muro per impedire che le persone arrivino, non sto dicendo che non ci debba essere una qualche forma, se vogliamo, di adeguata riforma dell'immigrazione. Sting, recentemente Sir Paul Mercatini ti ha fatto dei complimenti. sono stati incredibili sui testi di una canzone. Il fatto che Paul Mercatini abbia scelto una delle mie canzoni dicendo che avrebbe voluto scriverla lui è un grande onore, ma ci sono molte anche le canzoni che ha scritto lui, che avrei voluto scrivere io. Gli ho mandato un messaggio ringraziandolo, anch'io avrei voluto scrivere Penny Lane e molte altre. Tu Shaggy, quale canzone di Sting avresti voluto scrivere? Quando Paul Mercatini dice Feel of Gold è anche la mia canzone preferita, lui lo sa. Per non scegliere la stessa di Paul Mercatini, qualsiasi altra canzone di Sting, mi sarebbe piaciuto scrivere, perché Sting ha scritto dei classici, anche Fragile è una canzone incredibile. Cosa ti senti dire a tante persone che magari in questo momento non vanno in vacanza, per esempio, che non hanno la fortuna che abbiamo noi di viaggiare, tu che sei un'icona per loro e sei un riferimento? Il nostro compito è rendere felici le persone, ogni sera vengono a vedere lo spettacolo, se ne vanno con un sorriso sulle labbra, questo è il nostro compito. Ma cantiamo anche di questioni serie, non soltanto di macchine e ragazze, parliamo di questioni politiche serie, ma l'intenzione è quella di intrattenerli e le persone devono andare a casa felici. Ma cosa che ti ha fatto scegliere l'Italia come uno dei tuoi paesi preferiti? Perché gli italiani mi piacciono, mi piace l'ambiente, mi piace la cucina, la politica è problematica in ogni paese, compreso il mio, ci sono dei pazzi. Ma amo gli italiani, mi sento sempre ben accolto, mi sento protetto qui, è molto bello avere una casa qui.